È stata individuata e denunciata la donna proprietaria del Pitbull, lasciato libero e senza museruola, che ha aggredito ed ucciso una cagnolina di razza maltese nel frequentato parco di Villa Severi. Si tratta di una trentenne identificata anche grazie ai racconti di alcuni testimoni che hanno assistito, purtroppo impotenti, alla drammatica scena. La proprietaria della cagnolina lo scorso 19 luglio si era presentata ancora sotto shock dai carabinieri di Arezzo per denunciare il fatto. La donna aveva raccontato che mentre si trovava a passeggio con il proprio amico a quattro zampe, tenuto regolarmente al guinzaglio, era stata assalita da un grosso cane che aveva zannato al collo la sua cagnolina. Dopo il brutale episodio, la proprietaria del Pitbull si sarebbe allontanata dal parco senza preoccuparsi minimamente delle condizioni del piccolo cagnolino rimasto ferito mortalmente. Nei giorni successivi, la proprietaria del Maltese aveva lanciato anche un appello chiedendo a chi avesse visto qualcosa di raccontare agli inquirenti quanto accaduto. Adesso la proprietaria del Pitbull è stata individuata e denunciata all'autorità giudiziaria, dovrà rispondere del presunto reato di uccisione di animali ed omessa custodia e malgoverno di animali. Sui fatti, infine, sono state informate anche la Polizia Municipale per verificare il mancato rispetto del regolamento comunale per la tutela degli animali, oltre che l'Asla, per verificare lo stato di detenzione e salute del grosso cane.